ciao ragazzi io sono riccardo bentornati nel mio canale youtube e nel mio piccolo laboratorio oggi vedremo il tester elettrico di tensione senza contatto della parkside comprato oggi 25 febbraio 2021 a lidl a costo di 5 euro e 99 apriamo la confezione e mettiamolo subito alla prova viene venuto all'interno di questa confezione trasparente in dotazione vengono date anche due pile mini stilo tripla a sulla parte posteriore abbiamo invece una rapida descrizione quindi testere elettrico di tensione senza contatto per controllare in modo sicuro la tensione alternata di cavi prese a parete quadri e fusibili misurazione senza contatto e senza interruzione del circuito elettrico adatto anche per trovare rotture di cavi e fusibili guasti controllo con segnale acustico e visivo torcia integrata con luce led bianca segnalazione di batteria scarica e funzione di spegnimento automatico prima di cominciare il video voglio ricordarvi di leggere attentamente il manuale di istruzioni e voglio ricordarvi che questo è uno strumento che ci serve per lavorare vicino alla corrente elettrica non mettete mai le mani dove non siete in grado di muovervi se avete dubbi sul funzionamento o se è necessario intervenire e non siete in grado di lavorare con la corrente elettrica rivolgetevi ad un professionista il prodotto anche tre anni di garanzia e adesso vediamolo da vicino e allora sulla parte posteriore sulla sommità abbiamo questo cappuccio filettato nel quale vanno inserite le due batterie con il polo positivo rivolto in alto subito dopo abbiamo questa clip per poterlo bloccare alla cintura o al taschino anche se in realtà è molto duro quindi fa difficoltà a passare per esempio anche dal tessuto di una camicia subito dopo abbiamo il tasto per il led e il tasto per l'accensione sulla parte frontale abbiamo il sensore il led di accensione funziona solo se il tasto viene premuto quindi non è possibile di mantenerlo in modalità di led acceso ed è possibile utilizzarlo anche col dispositivo spento da vicino emetterà un piccolo fascio luminoso più ci allontaniamo più il fascio luminoso si è ampia questo invece il tasto di accensione basta premerlo e il dispositivo si accende emettendo un bip da questo momento in poi è possibile rilevare la corrente presente nei cavi il dispositivo riconoscerà la presenza di corrente elettrica e metterà un cicalino con una frequenza sempre maggiore man mano che mi avvicino e sulla parte frontale lampeggerà un led rosso e riesce a riconoscere la fase infatti più mi avvicino al cavo marrone più aumenta la frequenza del cicalino e ovviamente anche il led il cavo blu che è neutro non riconosce la corrente sul cavo marrone invece sì perché questa è la fase e questo no ovviamente in un cavo nel quale i fili siano vicini ci servirà solamente per riconoscere il passaggio della corrente quando si tratta di cavi separati possiamo utilizzarlo appunto come cerca fase all'interno dei cavi adesso proviamolo al buio comunque penombra mi avvicino illumino con il led quindi individuo subito i cavi da controllare e posso lavorare con l'illuminazione che perfettamente frontale al led forse mezzo centimetro più basso ma comunque illumina perfettamente la zona immaginiamo di avere un utensile collegato a questa presa e che improvvisamente non funzioni più riusciamo a capire dove è il danno se l'utensile che non funziona più o se noi arriva corrente dovremmo smontare la presa dovremmo smontare l'apri la spina se si tratta di una prolunga oppure andare a manomettere l'utensile smontandolo per capire qual è il danno con questo dispositivo se dovesse trattarsi di un cavo interrotto potremmo capire che la corrente non arriva perché a un certo punto c'è l'interruzione della stessa perché il cavo possibilmente è danneggiato infatti il dispositivo riconosce dove si interrompe la corrente e possiamo intervenire eventualmente creando una prolunga riparando il cavo o sostituendolo che sarebbe la cosa più indicata per esempio a me è successo con un caricabatterie come potete vedere tutti i caricabatterie impolveratissimi hanno i led accesi e caricano perfettamente le batterie questo caricabatterie invece improvvisamente ha smesso di funzionare non ho mai saputo se si trattasse del cavo danneggiato oppure dell'alimentatore con questo dispositivo adesso posso essere sicuro al cento per cento che la corrente arriva al caricabatterie quindi il danno è all'interno si sarà rovinata la scheda o qualche altra cosa comunque la corrente arriva perfettamente mi toccherà sostituire quindi tutto il caricabatterie stesso concerto ovviamente valido anche per i fusibili se abbiamo un punto da cui parte la corrente c'è un fusibile e mezzo e successivamente la corrente non passa più vuol dire che il fusibile è danneggiato riesce a rilevare la corrente da 70 fino a 1000 volt corrente alternata con una frequenza da 50 60 hertz e riesce a rilevarla anche attraverso delle superfici in questo caso sotto al mio bancone c'è una ciabatta a una quindicina di centimetri di distanza e riesce a riconoscere la presenza di corrente ma non riesce a riconoscerla attraverso i muri adesso facciamo una prova con l'interruttore quindi avvicinandovi riconosce la presenza di corrente elettrica ma se vado attorno sul muro non mi dà alcun segnale quindi non riesce a rilevare i cavi all'interno dei muri funziona anche con i cavi per la ricarica dei cellulari ma soltanto se il cavo è collegato ad un alimentatore con la corrente elettrica se collegato in mezzo all'alimentazione a corrente continua ovviamente non riesce a rilevare alcun segnale e allora è arrivato il momento di spegnere il tester si preme una volta ed emette due bip perfetto cosa dire secondo me funziona bene anche se funziona bene per un oggetto del genere non si dovrebbe mai dire perché potrebbe in realtà avere qualche piccolo difetto quindi non consideratelo mai come una garanzia che in un cavo manchi la corrente elettrica e in quel cavo possiate mettere le mani questo dovete utilizzarlo sempre come conferma della presenza della corrente elettrica e mai come conferma dell'assenza perché se per un motivo qualunque non dovesse segnalarvi la corrente elettrica vi fareste male proprio per questo motivo se non siete del mestiere non siete del settore non giocate mai con la corrente elettrica e questo dispositivo utilizzatelo solamente per rilevare la presenza o l'assenza di corrente elettrica oppure per manutenzione la sostituzione di un cavo se siamo in grado di farlo di un utensile come ho detto poco la che non funziona più la sostituzione di un fusibile eccetera ma non andiamo mai a mettere le mani dove non si deve per il resto mi sembra che funzioni bene è maneggevole leggerissimo ben bilanciato emette una buona luce che ci permette di lavorare anche dove non c'è molta luminosità pure perché se si tratta di corrente elettrica spesso siamo al buio cosa dire se vi piace a cat di villa io vi ringrazio di aver visto questo video fino in fondo vi invito ad iscrivervi al mio canale mettete mi piace al video se vi è piaciuto e lo avete ritenuto utile cliccate anche sulla campanella qua giù per attivare notifiche e ricevere le mail ogni volta che caricherò un nuovo video e ci vediamo ai prossimi caricamenti ciao da riccardo ea presto